Ha inizio la giornata lavorativa. Ecco ragione a rota che si è in possessa del documento, scatta sulla fascia destra e raggiunge lo scanner. Ora il documento passa alla dottoressa Spinelli, che lo corregge, e poi... Incredibile! Lo rimanda in stampa dall'altra parte dell'ufficio. Recupera l'avvocato Donnello, che si dirige verso la porta. Il pubblico esulta. Si lancia! No! Troppo tardi! La riunione è già iniziata. Semplifica la vita del tuo ufficio con Conica Minolta.